ciao noemi purtroppo per una legge di merda che abbiamo perché noi abbiamo una legge di merda tu su questa vita terrena non ci sei più sei andato a abbracciare presto presto nostro signora e non va bene così e tu nicolina anche tu purtroppo siete capitati al posto sbagliato voi mi dispiace proprio tanto noemi e tu nicolina potevate essere due figlie per me perché io ho una bambina di 13 anni quindi la differenza è poca ma quando riguarda te nicolina purtroppo a te non ti hanno saputo proteggere abbastanza parlo soprattutto della tua mamma che non ti ha saputo proteggere perché i figli dovevano stare con la mamma con con la mamma dovevano stare no con chi è stato il tuo assassino no con chi è stato il tuo assassino riposate in pace noemi riposa in pace nicolina vi voglio un mondo di bene adesso voglio dire un mio pensiero buongiorno a tutti ragazzi allora c'è una cosa che io non ci sto non ci sto proprio perché fino a un certo punto uno vuol dare la colpa a determinate cose oppure a giudicare su determinate persone però su certe cose non ci sto sto parlando della bambina nicolina sto parlando uccisa dal dal compagno della mamma però prima di incominciare questo discorso guardate un attimo il suo spezzo sul spezzo di video guardate un secondo disperazione il papà di nicolina per la quindicenne uccisa dall'ex compagno della madre la calma è solo apparente a rischitella la tragedia di nicolina 15 anni uccisa dal proiettile sparato per vendetta dall'ex compagno della madre ha sconvolto questo paese del foggiano il padre della ragazzina ezio pacini attraversa la piazza principale a passo svelto fatica a trattenere la rabbia parole cariche di rancore che si intrecciano con quelle della madre di nicolina donatella sa che il paese molti le rimproverano di aver lasciato i figli qui per ricostruirsi una vita lontano da quell'uomo violento che non voleva più perché non sanno la mia vita non sanno la mia storia possono parlare come vogliono perché nella in quella casa con questo con quell'elemento ci ho vissuto io mia figlia e la fede quindi sappiamo noi quello che abbiamo passato allora ma mi chiedo una cosa no molti del paese ce l'hanno con la mamma eccetera eccetera ma quello che dico io no da ignorante da ignorante però uno che ama i figli uno che io per i miei figli mi faccia ciro come si fa uccidere pure mia moglie per i miei figli ma quello che dico io no se stasera la mamma di nicolina la mamma di nicolina perché da come avete capito la mamma di nicolina ha lasciato la bambina affoggia la nicolina affoggia che viveva diciamo col compagno che c'aveva il compagno c'aveva un'altra bambina e viveva là dove stava pure il papa naturale che avete visto che ha detto per fortuna si è ammazzato perché se non lo ammazzato il padre vabbè io non poi questa cosa qua pure non mi torna perché parlamo c'era doveva stare col papà naturale non nella casa del compagno da come ha detto il telegiornale quello che avete sentito voi sto sentendo ho sentito pure io quindi non ho capito perché non stavo col papà naturale questo non ho capito però ancora non capisco no che la mamma io non ho capito la mamma perché la verità a me mi dispiace perché la creatura per nicolina che c'ha 15 anni e porca di quella puttana stai sotto il treno per un pezzo di merda perché non si può lasciare se tu hai fatto la denuncia parlo della mamma di nicolina se tu hai denunciato ai carabinieri che questa persona è violenta eccetera eccetera quando te ne sei andata a vivere non so in Toscano non so a Charustiva non mi interessa però quando te ne sei lasciato tua figlia giù e sapevi che questa persona era violenta tua figlia poteva stare con te qual è il problema che non te la sei portata forse vivi con un compagno che non voleva vengono prima i figli e poi vengono i compagni e i mariti di Gesù Cristo e i maroni e i pompelli e tutto non sto bestimando sto dicendo quello che vengono prima quindi facciamo un po' di chiarezza ma questa mamma facetemi capire a me non mi dispiace che la mamma ha perso una figlia stai chiuso cercando perché sinceramente se io faccio una denuncia che io da mamma se mi metessimo a una mamma oppure io da papà ovviamente che sono papà di due bambini se so che mia moglie è violenta io sinceramente se mia moglie ha affanato la vita lontano da là perché è violenta ha detto a mamma ma perché è rimasta la creatura è rimasta la creatura a basso per quale motivo mia figlia è minorenta sta sotto la mia tutela per quale motivo ma era un mozzicco stilato io la mamma mi tengo proprio piede a me mi dispiace veramente mi piange il cuore perché ho una figlia di 13 anni 13 anni ma come si fa per sparare come si dice sparare un bacio è una creatura ma come si fa come si fa tu devi sparare mi spero che il lato mondo il riavolo ti fanno sparare è morire proprio dannato non c'ho non c'ho non c'ho parola guardate sto talmente incazzato per questa cosa è nervoso pure il fatto di come si chiama noemi 16 anni uccise dal ragazzo noi perché noi abbiamo una legge di merdo noi abbiamo una legge di merdo sapete perché ve lo spiego subito il perché perché il ragazzo che ha ucciso a noemi la fidanzata quando è stato arrestato avete visto quando è stato arrestato oppure eh ha fatto la linguaccia oppure tutte quelle scimità che ha fatto eccetera tu sapete perché perché quello la se teniamo una legge veramente con i coglioni e contro coglioni che chi fa una cosa che si marcisce a vita e la luce del sole non è vero proprio se tenessimo una legge del genere quando usciva che era stato arrestato vedete che tante cose non ne facevo sapete perché perché dice ma no non ormai è già morto sono morto che sta la però sta recluso la tinta e non vede la luce nessuno quello è un altro che nel carcere ho meglio buco c'è neppilato ho meglio buco c'è neppilato senza peli sulla riga senza pietà senza pietà io si sono cazzato perché io ho i figli ho uno di quasi undici anni a gennaio e ho la bambina di tredici anni sì ma questo è successo a me è che pure morto e buono ho scafacciato la gaffa pure morto e buono hai si schiattato da caccia hai si schiattato pure morto e bene avete capito no? ma ho cancellato questo figlio ma cacchi va morto ma cacchi va morto ma che razzi cristiani si e come ritornando al discorso di Nicolina la mamma io credo che fa i tanti anni te lo sei cercato perché non lo dovevi rimanere là voi siete d'accordo con me siete d'accordo o non siete d'accordo con me io non voglio giudicare ma sentendo queste dichiarazioni che la mamma l'ha lasciato là la cinema capì ma a quale motivo io ci ho lasciato la figlia dei manichisti che già l'ho denunciato perché chi sta violenta ma che state capendo senza pieta per la mamma a me a me la mamma non mi fa proprio niente pietà a me mi dispiace perché è la creatura per Nicolina veramente mi dispiace ma pace all'anima sua a Nicolina e a Noema ve lo dico con emotione ma no voglio un bacio di niente perché non si può morire così ormai l'Italia il mondo sta chiedendo proprio alla merda il mondo sta andando alla merda perciò è inutile un bacione a tutti e se siete d'accordo condividete questo video così almeno così almeno la parte che è d'accordo riesce a capire pietà per quella donna non deve proprio esistere perché sinceramente zero solo solo rammarico per una bambina di 15 anni è come la stessa cosa pure Noemi ammazzata proprio così come all'ordine del giorno chi ridecchiava questa di Noemi e chi stuccava atterrata l'ondolagna in una fogna atterrata l'allà non merita nemmeno la degna sopra seppoltura atterrata l'allà nella fogna come magari si mangiano i zoccola rammar mangia pure i zoccola rammar mangia ciao ragazzi scusate dello sfogo ma chi ve lo dice è un papà che ama i suoi figli e per i figli si fa uccidere quello che non ha visto per una mamma ciao a tutti